E dal vino passiamo ad occuparci in qualche modo di acqua, lo facciamo con Andrea Cristani che è direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Buongiorno e benvenuto, inizia oggi la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, per quello prima dicevo insomma parliamo di acqua. Voi vi occupate, i consorzi di bonifica, della gestione dell'assetto idrogeologico. Ecco innanzitutto c'è stato un periodo che non pioveva, poi adesso abbiamo delle piagge intense, un clima mezzo tropicale, siamo a posto per quanto riguarda quell'emergenza siccità di cui si parlava per l'estate oppure non siamo usciti da quella... Sì, al di là della settimana della bonifica molto importante che parte oggi, si conclude il 20 di maggio, poi dopo eventualmente molte iniziative sono di carattere ambientale, e proprio dall'ambiente, dalla risorsa idrica discuteremo in questa settimana. La risorsa idrica non è un bene che si può così depoperare come lo abbiamo fatto in questi ultimi anni, va preservato. La crisi idrica esiste, siamo ancora oggi in un'emergenza, siamo sotto ordinanza ancora del governatore Zaia per il risparmio idrico, però in realtà i bacini si stanno riempendo grazie a questo blocco totale dell'uso fino a fine maggio, però in realtà la stagione estiva non si preannuncia così semplice, quindi in realtà non avendo oggi neve in montagna, perché gli imanti nevosi sono totalmente sciolti, quindi l'unica acqua che potremmo utilizzare durante l'estate sarà quella degli invasi che si sono riempiti in queste ultime settimane, quindi veramente dobbiamo porre molta attenzione alla risorsa idrica. La settimana della bonifica non è una settimana così per fare il punto della situazione, soltanto per fare della teoria, ma è una settimana per fare una strategia, perché i consorzi di bonifica hanno un ruolo molto importante, anche se proprio in Veneto hanno avuto un momento in cui stavano per essere messi da parte, poi in qualche modo l'alluvione vi ha riportato, vi ha ridato dignità, se mi permetta questa riflessione, cioè l'importanza proprio del vostro ruolo. Sì, ecco, diciamo non è stata l'alluvione che è riportato al centro dell'attenzione, cioè i consorzi di bonifica si occupano di una gestione molto complessa, che non è solo quella dei fiumi, che peraltro non è neanche competenza dei consorzi di bonifica, ma di tutto il reticolo idrografico che occupa l'82% del nostro territorio Veneto. In realtà la settimana della bonifica ha come tema principale il rapporto con gli enti locali, definite da noi una forza per il territorio. È un patto strategico, l'abbiamo lanciato già l'anno scorso proprio in Veneto, in realtà con le amministrazioni comunali, con i sindaci, con chi gestisce il territorio, i consorzi di bonifica vogliono intraprendere una nuova strada. L'abbiamo definita non solo quella di collaborare, ma per una ripianificazione territoriale. Il nuovo territorio è stato un po' devastato. Però mi permette la riflessione, l'alluvione in questo senso ha insegnato e anche vi ha riportato al tavolo del dialogo anche con le amministrazioni locali. Sì, l'alluvione è importantissima perché ha fatto recuperare un sentimento perduto. Praticamente l'attenzione della gente, della cittadinanza oggi, è molto più alta rispetto a... Sì, più collaborativi con voi. Sì, sì, molto più collaborativi. Però noi continuiamo a dire una cosa che volevo proprio porre l'attenzione vista l'occasione. Dobbiamo dividere quello che è una percezione del grande evento alluvionale e quindi eventi calamitosi che partono da 50 a 100 anni a quello che sono oggi, nella sensibilità comune dei cittadini, i problemi degli allagamenti. Voi ne date sempre sicuramente notizia. Ogni pioggia molto intensa dovuto ai cambiamenti climatici oggi genera dei piccoli allagamenti. Il quartiere, la strada, gruppi di case che poi in realtà generano nell'immaginario di tutti il fatto che è poco sicuro il posto dove vive uno. Questo non è dovuto né all'incuria, né agli grandi eventi, né ai fiumi che non sono curati. Ma è dovuto purtroppo che abbiamo costruito in situazioni dove il territorio non accettava la costruzione. Anche nelle casse di espansione. Ecco, allora ecco che dobbiamo generare una serie di opere alternative come le casse di espansione, come le grandi opere che si stanno realizzando. Ma soprattutto nel rapporto con le amministrazioni quello di ripianificare e ripensare le fognature e di ripensare le reti idrauliche che sono all'interno delle costruzioni. Una strategia comune. Certo. Ringrazio Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifica. Questa è la settimana della bonifica dal 12 al 20 maggio anche per capirne di più dell'assetto idrogeologico del nostro territorio. Grazie.